Il frutto di una gara non è una concessione, una gara che Iveco ha vinto e che la rilancia verso la produzione di mezzi elettrici ecocompatibili. Da questo punto di vista la Regione Puglia è ancora più contenta perché restituire a questo settore della trazione elettrica su gomma una centralità anche in Puglia è il nostro obiettivo, non solo per i bus ma anche per le vetture. Noi ci auguriamo che il distretto automotive generale della Puglia possa arricchirsi anche da questo punto di vista. Iveco apre una strada molto importante in collaborazione stretta con la Regione Puglia che sarà uno dei suoi principali clienti nel futuro. In realtà è una terra che ha bisogno di un sacco di migranti dall'esterno perché se no altrimenti non riusciremo a far funzionare la gran parte delle nostre aziende agricole. Presidente qui accanto si fa un passo indietro probabilmente, c'è bisogno del vostro aiuto, mi riferisco all'ex top sud. Sono sempre in vena di miracoli, ne abbiamo fatti tanti, faremo anche questo. Anche quello di mandare a casa Clemente oggi? A casa no, cioè rimuovono. Stiamo cambiando argomento, vedo. Grazie. Grazie.